Ma, Ministro, qui c'è un po' un rimpallo tra voi e il Comune di Roma. Nella speranza che il Comune di Roma ribadisca le linee programmatiche, il programma di campagna elettorale, le parole del nuovo Sindaco Raggi di campagna elettorale, noi ne saremmo assolutamente contenti. Ma detto questo, nella mancata chiarezza tra voi e il Comune di Roma, si sta semplicemente rischiando di buttare via dei soldi per una candidatura che domani potrebbe non essere nemmeno presentata. Allora, io credo che per garantire i soldi pubblici dei cittadini questa chiarezza ci debba essere subito. Non credo che ci possiamo permettere, nella situazione in cui siamo, la dico tutta, di mandare in giro per il mondo il signor Malagò e il signor Montezemolo a fare feste e festeggiamenti per una candidatura che magari potrebbe anche non esserci. Noi continueremo ad insistere su questa situazione, chiedendo chiarezza e chiedendo che quei soldi non vengano spesi, ma chiedendo soprattutto che i soldi che sono stati già spesi dal Comitato promozionale siano rendicontati e siano posti davanti alla Commissione bilancio del Parlamento per capire dove sono stati spesi. A me sembra che in un momento di crisi economica come quella che si stia vivendo questa è una vera presa in giro. A me sembra che in un momento di crisi economica come quella che si stia vivendo